Buongiorno a tutti, mi spiace davvero molto non poter essere con voi oggi. Il mio saluto va in modo particolare all'amico Presidente della Regione Puglia, Michele Migliano, al Sindaco di Bari Antonio De Caro, che non è oggi con voi, ma c'è Eugenio Isciascio, Vice Sindaco di Bari, a Stefano Bronzini, Rettore dell'Università di Bari, a Francesco Cupertino, Rettore del Politecnico di Bari, e a tutti voi che siete oggi qui per un giorno di festa, perché è la presentazione del nostro Digital Solutions Center, ne abbiamo parlato, abbiamo raggiunto un accordo a aprile, a settembre avevamo la sede e oggi abbiamo già assunto 11 persone. 11 persone, 4 vengono dal Politecnico, 6 vengono dall'Università di Bari e una persona viene da Napoli, quindi abbiamo allargato anche ai vicini campani. Diciamo che anche in Italia si possono fare cose a una velocità sorprendente, noi contiamo molto sui progetti che stiamo sviluppando insieme all'Università, questi progetti già riguardano la nostra parte sviluppo del prodotto e Internet of Things legata ai nostri processi produttivi e vediamo in Bari, nella Puglia, un centro di eccellenza. Questa è una bellissima notizia che deve, diciamo, renderci tutti orgogliosi di essere parte di un Paese che in momenti difficili sa sempre trovare il modo di guardare avanti. Questo è un progetto che riguarda il futuro, da qui al 25 contiamo di assumere una cinquantina di giovani e le competenze che abbiamo trovato a Bari sono straordinarie. Oltre alle competenze, quello che devo dire, abbiamo trovato un rapporto umano con delle persone di grandissima qualità, gli amici che ci sono qui oggi ci hanno aiutato, sono aperti, hanno uno sguardo verso il futuro, quindi continueremo questo cammino insieme, è solo l'inizio. Grazie a tutti, un grande abbraccio. Grazie a tutti.